Allora signori scusate che abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma la tecnologia è sempre più alta di lui. Quale c'è tanto una cosa tecnologica su un'unione o un'unione? Allora signori vado a presentarvi il primo artista della giornata. E' sta crescendo tantissimo, il campo artistico è nella canzone partenovea, è già il terzo lavoro discografico. Con tutte le trasmissioni su delle ricerche, TVS, CLA, Italia mia, domenica, mi raccomando guardatelo sul canale 5, buona domenica. E' questo un'unione, come la città, 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 città! Città, città! Città, 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 città! Bona domenica, città! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.